A pochi giorni dall'inizio dell'edizione 2019 delle serate a Maratea del Cinema Lucano, la Film Commission traccia ai nostri microfoni un bilancio delle produzioni realizzate, anche in vista dei dieci anni del film di Rocco Papaleo, Basilicata Cost to Cost, e l'inizio delle prime riprese a fine agosto del nuovo 007 tra Matera e Maratea. Infatti proprio quest'anno sono circa dieci anni dal film che ha fatto conoscere la Basilicata in Italia. Diciamo che come Film Commission credo che in quest'ultimo periodo sia stato fatto un discreto lavoro, pur non avendo grandi fondi a disposizione siamo riusciti a far partire diverse iniziative. Sicuramente una delle più importanti su questo territorio, sulla regione Basilicata in genere, è l'arrivo di un film internazionale, un film mondiale, che è quello di 007, dove le riprese si faranno per circa quattro settimane a Matera, nella bellissima città dei Sassi, e circa una settimana si faranno anche a Maratea. Quindi è una grossa opportunità, una grande promozione. Credo che sia dopo Deep Passion una delle più grandi promozioni che siano state fatte per la regione Basilicata. Tra l'altro lavoreranno tantissime comparse, si parla poco meno di mille comparse che saranno utilizzate, e soprattutto poi nella città di Matera si creerà una microeconomia, considerando che sono diversi milioni di euro che saranno spesi in questo periodo. Non solo per le riprese di circa, come dicevo, quattro settimane, ma già da maggio stanno lavorando per cercare di essere pronti per la fine di agosto, quando inizieranno le riprese. Quindi credo che sia veramente una delle più grandi opportunità per la regione. Insieme a questo poi una cosa a cui io dico sempre, a cui tengo molto, è quello di far crescere i giovani lucani. E grazie alle produzioni che ci sono state e a quest'ultima, molti giovani lucani che fino a qualche anno fa non avevano ruole apicali in questo mondo, oggi molti giovani hanno un ruolo apicali e vengono utilizzati e chiamati in diverse parti del mondo a lavorare. E credo che questo sia un grande obiettivo che abbiamo raggiunto. Basilicata è sempre di più terra di cinema con le sue location naturali, spesso set per le varie produzioni. Sì, la Basilicata ormai è conosciuta a livello internazionale come una regione dove si possono girare tutte le produzioni che si vogliono. Questo grazie alla conformità del territorio. Abbiamo, dico sempre, mari, monti, terme, laghi, fiumi, monti, colline, abbiamo paesaggi lunari. Molti film sono stati girati proprio per questa diversità dei paesaggi. Abbiamo città come Craco dove non ci abita nessuno e quindi utilizzate per tutta una serie di produzioni. veramente la Basilicata oggi, anche grazie soprattutto a Matera, capitale della cultura, è conosciuta in tutto il mondo. Ma non è solo Matera, tutta la regione si presta a queste produzioni televisive e cinematografiche, ma soprattutto tutta la regione è conosciuta nel mondo per queste sue caratteristiche. Bisognerebbe cercare di amarla di più, bisognerebbe cercare di promuoverla di più e soprattutto bisognerebbe cercare di fare maggiore sinergia tra pubblico e privato perché quando si fa sinergia veramente non ce n'è per nessuno. Per il 2019, alle serate del cinema, tante le novità. Abbiamo, tra l'altro, la mostra nel centro storico di Longalella, grande fotografo di origine lucana. Abbiamo, durante le giornate del cinema, in una delle giornate abbiamo proprio il cinema, si parlerà di cinema verticale che è il futuro, in che consiste sostanzialmente i film non si vedranno più in orizzontale come con il classico televisore, ma si vedranno in verticale. Ormai i telefonini le fanno da padrona, ogni ragazzo ha il suo telefonino e lì potrà vedere i film in verticale. Bisogna dire che la Samsung, una delle grandi marche di produzione di televisori, già ha fatto i primi televisori in verticale, quindi se ne parlerà a Maratea dove verranno degli esperti di questo settore. Avremo delle masterclass molto importanti, dove avremo Terry George, che ha vinto l'Oscar con un corto ed è stato candidato all'Oscar come sceneggiatura per il film Oterruanda. Avremo Stefano Mainetti, grande compositore. Avremo le persone della mia età, insomma se lo ricorderanno, Capir Bedi, nella sede televisiva Sandokan. In più, come fiore all'occhiello, quest'anno abbiamo una delle grandi star americane che sarà presente a Maratea, che è Richard Gere, quindi insomma ce ne sarà per tutti. Poi avremo altre presenze, soprattutto apriremo il festival con Loretta Goggi, che ha girato la Fiction Sorelle a Matera, che ha discorso un grandissimo successo. E poi saranno tantissimi gli ospiti da Marco Giallini. Avremo anche dei personaggi televisivi come Millie Carlucci, un'amica che verrà a trovarci a Maratea. Avremo Elena Sofia Ricci. E soprattutto avremo una persona che sta portando le più grosse produzioni hollywoodiane in Basilicata, che si chiama il produttore esecutivo Kenzo Sisti, che premeremo nell'ultima serata. E poi c'è una cosa, la dico per ultima, perché io ci tengo molto, essendo di Lago Negro, essendo stato un suo amico, ci sarà un premio alla famiglia del cantante Manco. Questa è una cosa a cui io tenevo molto, la moglie e i figli hanno accettato questa cosa e ne sono molto, molto orgoglioso di poterli premiare qui a Maratea durante le giornate del Cinema Lucano. Un evento che sarà seguito anche da Rai, sarà seguito da altre televisioni nazionali e anche dalla radio. Avremo diversi collegamenti giornalieri con Radio Londra e soprattutto da Maratea, qui da Santa Venere. Per tutta la settimana RDS, che è la seconda radio più importante d'Italia, dirà quello che è accaduto e che accadrà durante queste giornate. Quindi ce n'è per tutti i gusti. E poi avremo anche un settore dedicato alla presentazione di libri, a cura di Andrea Di Consoli, il preserale lì a Piazza del Gesù, a Fiumicello, ci sarà questa presentazione di questi libri legati al mondo del cinema e non solo. E a seguire, proprio da Piazza del Gesù, ci sarà la proiezione di due film. Perché chi non vuole assistere, diciamo, qui nell'arena del Santa Venere, al tratto del mare del Santa Venere, non vuole assistere a ciò che accade qui, presentazioni di corti di giovani lucani e quant'altro, interviste VIP, potrà vedere film a Piazzetta del Gesù. Quindi, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Ma un'altra cosa molto importante, a cui si sta lavorando, e devo dire che l'amministrazione e la Capitania di Porto hanno dato il loro assenso, è del driving marino. Praticamente sulla spiaggia qui del Santa Venere ci sarà uno schermo dove si potrà vedere in diretta ciò che accade in arena. e quindi le barche che saranno in quell'aria, in quella zona, potranno vedere il festival, le giornate del cinema lucana dal mare. Credo che questa sia una cosa unica in Italia nel suo genere. Già in gandiere nuove produzioni, in modo particolare nel Lagone Grese. Diciamo che stiamo lavorando affinché l'anno prossimo arrivi, credo, una produzione grande quanto 007. ma per un fatto scaramandico non vi dico qual è, ci stiamo lavorando e speriamo l'anno prossimo di vederci e di annunciare questa grossissima produzione.